bentornati nella mia cucina oggi iniziamo il ciclo di ricette natalizie la prima ricetta che vado a proporvi è una ricetta semplice semplice facile facile che prevede solo due ingredienti di base poi ovviamente si può sempre aumentare con le decorazioni e via dicendo e può essere sia nella versione dolce che salata io oggi vi faccio vedere la versione dolce poi magari i prossimi giorni faremo anche la versione salata come dicevo abbiamo bisogno di due ingredienti il principale è il pan carré o meglio il pane questo questo in senza senza i bordi ecco il pan carré senza i bordi poi avremo bisogno di una crema spalmabile per farcirlo io oggi utilizzo una crema al pistacchio perchè il pistacchio è il mio gusto preferito e ovviamente poi visto che sono dei tramezzini dolci e natalizi andremo a utilizzare anche dei confettini natalizi appunto tutti colorati ma vediamo come procedere prendiamo la prima pezza di pan carré e ci spalmiamo sopra la crema spalmabile ripeto io ho scelto la crema al pistacchio ma ovviamente voi potete scegliere marmellata nutella creme crema alla nocciola qualsiasi genere di a questo punto non ci resta che mettere sopra la seconda festa di pane schiacciare bene e mettere a riposo per una mezz'oretta in frigo qui un po' di un po' di un po' di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.